La Procura della Repubblica di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica per i minorenni di Reggio Calabria hanno emesso due avvisi di chiusura delle indagini nei confronti di sei giovani, quattro maggiorenni e due minorenni, indagati per il reato di lesioni personali in concorso commesso il 31 luglio 2022 in Reggio Calabria ai danni di un ragazzo residente in un centro della provincia. Si tratta del feroce pestaggio posto in essere da un gruppo di giovani ai danni di un giovane sul lungomare di Reggio Calabria, fatto che molto scalpore ha suscitato per la violenza dell'aggressione, effettuata da molte persone a colpi di sedia, di casco e con calci e pugni, tutti indirezzati nei confronti di una sola persona che cercava solo di sfuggire alla furia degli assalitori, come documentato in un video girato da un passante che è diventato virale sulla rete. Le indagini coordinate dai due uffici di procura competenti sono state svolte con grande tempistività ed efficacia dalla squadra mobile della questura di Reggio Calabria, che nel volgere di pochi giorni è riuscita con paziente in meticoloso lavoro a identificare alcuni dei soggetti ritenuti autori delle grave fatto. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'effettiva colpevolezza degli indagati dovrà essere in seguito vagliata dal competente giudice.